Sindaco, è stato potenziato il servizio per la richiesta di esenzione ticket, un servizio importante richiesto da molti cittadini? Sì, quest'anno la AS, e ringrazio il direttore generale, il dottor Fagnano, il responsabile del dottor Pinto, il distanzionale di base di Roseto, su richiesta del sindaco, che ha fatto questa richiesta perché è sollecitata da tanti cittadini della nostra città che per avere l'esenzione ticket per reddito si dovevano rivolgere agli uffici di Giulianova ha presentato una formale richiesta di riattivazione di questo servizio nel nostro distretto sanitario di base qui a Roseto e con grande soddisfazione oggi possiamo dire che i vertici della AS hanno accolto questa richiesta che il sindaco ha fatto a nome della città di Roseto degli Abruzzi e quindi dal primo aprile verrà riattivato questo importante servizio per l'esenzione ticket da reddito per le persone oltre 65 anni che ne hanno diritto e che non dovranno andare più a Giulianova ma potranno espletare le formalità qui nel distretto sanitario di base ci saranno due sportelli aperti e con gli orari che saranno poi pubblicati lo metteremo anche sul sito del Comune adesso dopo questa conferenza stampa quindi la mia soddisfazione è perché i nostri cittadini avranno meno disagi considerando che chi ha esenzione dal ticket sono persone appunto di età avanzata spesso persone anziane anche con disagi sociali ed economici quindi anche con difficoltà a spostarsi e questo per noi è un motivo di grande soddisfazione e ringrazio quindi di nuovo la sensibilità avuta dal direttore generale e quindi la AS di Teramo e anche per l'impegno del direttore qui dal distretto di base di Roseto degli Abruzzi Grazie